L'euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro usa quota 1,21 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2132. Confermata indeciso recupero l'economia dell'eurozona nel terzo trimestre, con il PIL in crescita del 12,5%. Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro usa yen quota 104,40, con un peggioramento verso il supporto stimato a 104,02. Confermata la robusta crescita del PIL del Giappone nel terzo trimestre, che sale del 5,3% su trimestre. La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde e scambia quota 1,3461 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista 1,3501. Potrebbe arrivare la fumata bianca sulla Brexit, se lui accettasse le posizioni di Londra sulla pesca. L'euro si muove in forte rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia 126,38, con la nuova resistenza vista a 126,64. Sostanzialmente stabile il sentiment dei consumatori giapponesi a novembre, che si è attestato a 33,7 punti. Grazie a tutti.